Ciao amici, sono Giovanni Falzone e sono qui felicemente per parlarvi di questo nuovo gioiellino che mi è appena arrivato. Si tratta del nuovo modello della Ripa, la tromba che uso io da diversi anni, collaboro con la ditta Ripamonti ormai da lontano 2011 e siamo riusciti a tirare fuori veramente un bellissimo strumento del quale siamo tutti soddisfatti, ma io in primis perché poi lo devo suonare tutti i giorni e quindi lo devo amare molto. Ed è proprio il caso di questo strumento. Vi parlo di questo strumento che è uguale al mio, identico, quindi campana 140, cannello 43, macchina tedesca e tutto diciamo di manifattura italiana, assemblata a mano. Vi parlo nello specifico di questo strumento perché è arrivato un modello silver, ossia argentata, satinata, con solo la campana lucida. Le caratteristiche sono sempre quelle dello strumento che ormai utilizzo l'anno, ossia un bel suono caldo, strumento pronto, emissione diciamo abbastanza semplice, quindi non è uno strumento che crea complicazioni o duro da suonare. È al contempo molto flessibile perché io l'ho scelto proprio perché mi dà questo suono morbido e scuro quando voglio suonare nel registro medio-basso in un clima di ballad o comunque di morbidezza e al contempo mi dà anche questo suono squillante, penetrante e subito pronto anche sul registro acuto. Quindi ve lo faccio sentire, vi faccio un paio di esempi perché sono veramente molto soddisfatto. Come potete notare è molto pronto anche al soffio, a questo diciamo clima di suono, molto utile nel jazz specialmente e poi è ben predisposto ad essere personalizzato perché lo strumento come vi dicevo è molto semplice da suonare e quindi si presta ad aiutarvi in qualche modo a cercare il vostro suono e a trovarlo. È veramente una sciccheria con questi bottoni neri, insomma è bello, è bello, bello, bello. Io poi sono come un bambino, mi emoziono sempre e mi esalto. Vi faccio sentire la parte un pochettino più, come dire, squillante, penetrante di questo strumento perché appunto come vi parlavo prima è molto versabile. Poi c'è la parte anche della flessibilità. Che dire, io sono innamoratissimo quindi ve lo suggerisco. Vi consiglio di andare dal mio amico Flavio Ripamonti a Paderno Dugnano a provarli. Se volete anche qualche consulenza tecnica scrivetemi in privato e io se posso vi aiuterò con grandissimo piacere perché lo strumento merita ed è giusto che chi ama suonare e chi ama cercare un suono possa avere finalmente uno strumento a disposizione che in qualche modo lo agevoli. Io vi saluto, vi ringrazio. Da me e la mia amata Ripa una buonissima giornata. Ciao e a presto. Grazie.